Mourinho aiuta la Juve, Roma sull'esonero della Juventus. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Juventus in cerca di disinvestimenti, la Roma si trasferisce ad un giocatore che lascia assolutamente i bianconeri, ma c'è un ostacolo. Il mercato dei transfer sta decisamente entrando in diretta e in quelle ore la vendita di Tonali e dei sempre più probabili Brosovic e Gosens stanno innescando il derby milanese. Da Turam a Frattesi e Lukaku, i due club si affrontano con sorpassi. Intanto la Juventus, fuori dall'Europa che conta e, chissà, forse anche al di fuori della Conference League, sta cercando di capire i possibili trasferimenti che aiuteranno l'azienda a fare mercato. Ci sono poche risorse, quindi devi muoverti con gli addi. Vlaovic e Chiesa sono ovviamente i giocatori con più mercato, ma al momento delle offerte concrete e ufficiali non sono arrivati. Ma la Juve è disposta ad ascoltare qualsiasi offerta, con la Serbia ora un po' in meno in vista e l'esterno con un vantaggio concreto che porta alla Premier League. Ma per i bianconeri saranno fondamentali anche tutte le altre operazioni di uscita che attualmente bloccano un po' tutto il resto. Parliamo di rendimenti dei prestiti, vedere MC Keny, Zakaria e anche Arthur. Nessuno di loro è stato salvato e dovrà essere consegnato di nuovo. Probabilmente sarà più facile mettere il centrocampista americano, a un mercato, ma non per le cifre che la signora vorrebbe. Un esempio è l'interesse di Roma per lui.